La vita reale contro Lion Su Minecraft uno degli animali più belli che puoi avere come companion è la TNT Vi faccio vedere come funziona, non l'ho ben capito eh Il disabile vale 240 euro al mese e l'immigrato 1200 È un paese di merda Ecco io ho pensato come sarebbe averne uno vero Ho capito che se gli schiaccio la pancia fa così Se gli premo il becco Sei un cretino Sei un cretino Sei un cretino Il pappagallo non ripete le cose È una figata Immagini essere lì Sarebbe incredibile È pericolosissimo Eù sto parlando con te Ma dimettiti e vergognati Perché io litigo sempre con ste creature È un insulto Infame delinquente Io già mi sto preparando perché oggi sto iniziando a registrare ventilatori Qui ci sarà un test che ci testerà la nostra capacità di testare Ricordate lui no? Il pappaccetto demonio Lui È una sorta di ink di Amazon Buongiorno il mio nome è Dottor Golla Mi sono spaventato tanto Minecraft Lui è peggio di Stefano Faccio caccate Scegli quella giusta Allora qua è facile perché Right in inglese vuol dire sia zozzo Ma anche Ehm Ciccio gamer ZITO Flame 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 Dettrosion Aaaaaah Ooooooooh Mio Dio Farina per il nostro sacco Ehm Mio Sì Mio 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 Mio